Segna sempre, ma non solo, contro il Genoa, Juto Nagatomo, un gol di testa. Jonathan ha detto, il gol era mio, me l'ha rubato Juto. Sì, va bene, Jonathan ha fatto bene, mi ha fatto un buon assisto. Ma sono contento che ho fatto il gol, quindi è importante che abbiamo vinto e continuiamo così. Ma è importante anche che nelle logiche di gioco di Walter Mazzarri, tu vai al cross da una parte, arriva Jonathan dall'altra insieme agli altri, in questo caso il cross di Jonathan e siete arrivati tu e Palacio. Segno che i meccanismi stanno diventando sempre più facili per voi. Sì, stiamo lavorando bene, anche quello che sta chiedendo il mister, stiamo provando bene così. Quindi continuiamo così e vinciamo la prossima partita. Abbiamo visto che tanti colleghi giapponesi ti hanno fatto una grande festa domenica dopo la partita e io ho detto che poi deparati tutti a cena, un ramachi per tutti, offre Juto. Va bene, offro io. Va bene. Grazie Juto. Grazie, grazie a te. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky Liberi di...